a parigi per tutto l'inverno erano stati molto entimi dopo essersi perduti di vista come accade sempre alla fine degli anni di collegio una sera i due amici s'erano ritrovati in un ricevimento già vecchi e con i capelli bianchi l'uno celibe e l'altro sposato il signor de meru trascorreva sei mesi a parigi e sei mesi nel suo piccolo castello di tourbeville dopo essersi sposato con la figlia di un nobile dei dintorni aveva trascorso una vita piacevole tranquilla nell'apatia di chi non ha niente da fare calmo di carattere ordinato per mentalità senza voli geniali né scatti di indipendenza passava il tempo a rimpiangere bonariamente il passato e a biacimare le usanze e le istituzioni di odio a ripetere in continuazione alla moglie che in atto di convinto assenso alzava il cielo agli occhi e talora anche le mani sotto quale governo siamo capitati dio mio la signora de meru come intelligenza assomigliava al marito quasi come se fossero stati fratello e sorella per tradizione sapeva che meritano rispetto innanzitutto il papa e il re e lei li amava e rispettava dal profondo dell'anima anche senza conoscerli con poetica esaltazione con dedizione ereditaria con la commozione di una brava e buona donna ed era proprio buona sin nel profondo del cuore non aveva avuto figli e lo rimpiangeva sempre quando il signor de meru incontrò a una festa con ballo il suo ex compagno joseph muradur provò una vera e profonda gioia perché gioventù si erano voluti molto bene joseph muradur meridionale era vice prefetto nella sua regione era spontaneo aveva una vivace parlantina esprimendo quel che pensava senza mezzi termini apparteneva a quella razza di bravi repubblicani per i quali le parolacce sono d'uso comune al punto che per la loro franchezza spinta fino alla brutalità diventa una posa abituale andò in visita nella casa dell'amico e risultò subito simpatico per la sua cordialità sincera nonostante l'estremismo delle sue opinioni politiche la signora de meru diceva che peccato un uomo tanto gradevole il signor de meru diceva l'amico in tutta confidenza e con tutta la convinzione possibile tu non ti rendi conto del male che voi repubblicani state facendo alla nazione ma gli voleva bene perché non c'era nulla di più solido di un'amicizia d'infanzia ripresa in età matura joseph muradur prendeva in giro moglie e marito soprannominandoli i miei cari tontoloni qualche volta si esibiva in chassosi sproloqui contro la gente dalla mentalità retriva contro pregiudizie e tradizioni quando lasciava debordare così il fiotto della sua democratica eloquenza la coppia a disagio non ribatteva per educazione e cortesia poi il marito cercava di incanalare diversamente la conversazione per evitare dissapori con muradur si vedevano soltanto nell'intimità venne l'estate la gioia maggiore per i merul era quella di poter ricevere gli amici nella loro proprietà di tourbeville era una gioia intima e onesta la gioia di brava gente la gioia di gentiluomini campagnoli andavano incontro ai loro invitati nella stazione vicina e li trasportavano in carrozza attendendosi complimenti da parte loro sul tempo sugli alberi sulle buone condizioni stradali nel dipartimento sulla pulizia delle fattorie contadine sulla grossezza del bestiame che si vedeva nei campi su tutto quello che era lì in giro facevano osservare che il loro cavallo trottava con stile sorprendente per essere una bestia adibita ai lavori campestri durante una stagione dell'anno aspettavano ansiosamente l'opinione di un nuovo venuto sulla loro proprietà sensibili ad ogni parola grati ad ogni accenno cortese d'apprezzamento Joseph Muradur fu invitato e annunciò il suo arrivo moglie e marito andarono a prenderlo ben lieti di dover fare gli onori di casa appena lo vide Muradur saltò dallo scompartimento con agilità che accrebbe il loro piacere strinse le mani, si rallegrò li mandò in estasi coi suoi complimenti strada facendo fu meraviglioso si stupiva dell'altezza degli alberi dell'abbondanza delle messi della velocità del cavallo quando fu sullo scalone del castello il signor de Meru gli disse con amichevole solennità adesso sei a casa tua Joseph Muradur rispose grazie caro ne ero sicuro e io d'altra parte non sono il tipo che fa complimenti con gli amici per me l'ospitalità esiste soltanto in questa situazione in questa maniera salì nella sua camera per vestirsi come diceva lui alla contadina e se ne discese tutto in tela azzurrina con una paglietta da canottiere scarpe di cuoio giallo insomma in quell'abbigliamento che usano ai parigini quando vanno a divertirsi appariva più alla mano più gioviale come una persona di famiglia che avesse messo assieme al vestito di campagna anche un abito mentale più confidenziale e disinvolto da lui ritenuto adatto alla circostanza ma quell'abbigliamento destò per un po' lo stupore del signore e della signora di Meru che anche nelle loro proprietà rimanevano sempre dignitosamente vestiti quasi che la particella nobiliare che prendeva il loro cognome li costringesse ad essere cerimoniosi anche nell'intimità andarono a visitare le fattorie dopo aver mangiato e il parigino fece trassecolare i rispettosi contadini col suo tono da compagnone la sera aveva una cena il parroco un grosso e anziano parroco ospite abituale alla domenica e che era stato chiamato eccezionalmente per fare onore al nuovo ospite appena lo vide Joseph fece una smorfia poi lo studiò con stupore come fosse una bestia rara una razza particolare che non aveva mai veduto da vicino durante il pasto raccontò delle storielle spinte consentite a quattro occhi ma che ai Meru sembravano fuori posto davanti a un sacerdote non gli diceva signor parroco ma lo chiamava semplicemente signore lo mise perfino in imbarazzo con certe considerazioni filosofiche sulle varie superstizioni diffuse sulla terra diceva il vostro dio signore è di quelli che bisogna rispettare ma anche discutere il mio invece si chiama ragione e in tutti i tempi è stato il nemico del vostro i Meru disperati tentavano di cambiare argomento il parroco andò via quasi subito allora il marito disse con tono gentile non ti sembra di essere andato troppo in là davanti a quel sacerdote Joseph esclamò subito questa è bella e che devo aver paura di una sottana e poi ti prego un'altra volta non mi costringere a mangiare vicino a quel tomo voi altri fate come vi pare degustatevelo domenica e feriali ma per di un cimbacco non appioppatelo anche agli amici ma caro il suo carattere è sacro Muradur li interruppe sì sì lo so bisogna usarvi ogni riguardo come è una verzinella so tutto caro mio quando queste persone avranno un po' di rispetto per le mie idee io rispetterò le loro per quel giorno bastò il mattino seguente la signora de Merul entrando in salotto vide in mezzo al tavolo tre giornali che le fecero fare un passo indietro le Voltaire la Repubblica Francoise le Justiz subito dopo Joseph Muradur sempre azzurro vestito apparve sulla soglia leggendo ostentatamente l'entransigente esclamò oggi c'è un bellissimo articolo di Rochefort questo scrittore è davvero straordinario essa ad alta voce enfatizzando alcuni passaggi così trascinato dall'entusiasmo che non si accorse dell'arrivo del suo amico il signor de Merul ricava in mano le globoise di per sé e Cléron per sua moglie la prosa incandescente dell'illustre scrittore che osò scagliarsi contro l'impero declamata con violenza quasi cantata con accento meridionale risuonava in quel pacifico salotto faceva ondeggiare le tende all'antica piega dritta sembrava rimbalzare sulle pareti sulle enormi poltrone foderate di stoffa sugli austeri mobili che da un secolo occupavano lo stesso spazio era una grandinata di parole irriverenti sfacciate ironiche distruttrici l'uomo e la donna l'uno in piedi l'altra seduta ascoltavano stupefatti e così scandalizzati che non si muovevano nemmeno Muradur sparò l'ultimo pistolotto come un gran finale di fuochi d'artificio e concluse con aria di trionfo che me ne sembra graffia eh proprio in quel momento notò i due giornali nella mano del suo amico e toccò a lui di rimanere a bocca aperta avanzò a grandi passi verso di lui e chiese pieno d'ira che ci fai qui con quella robaccia e signor de Meru rispose con esitazione ma ma sono i miei giornali i tuoi giornali vuoi prendermi in giro ti prego di leggere i miei che ti schiariranno un po' le idee e quanto a questi ecco cosa ci faccio prima che l'ospite sconcertato potesse impedirglielo afferrò i giornali e li buttò fuori dalla finestra poi con estrema serietà pose tra le mani della signora de Meru la giustiz consegnò al marito le Voltaire e sprofondò in una poltrona per leggere l'entransgent per delicatezza marito e moglie fecero finta di leggere qualche riga poi gli restituirono i giornali i fautori della Repubblica tenendoli con la punta delle dita come se fossero avvelenati Muradur cominciò a ridacchiare e dichiarò otto giorni di questa cura e sarete convertiti alle mie idee e infatti di lì a otto giorni egli era il vero padrone della casa aveva vietato l'ingresso al parroco che la signora de Meru adesso doveva andare a visitare di nascosto aveva proibito che le Goloa e le Cleron entrassero nel castello ragion per cui un servitore doveva andarli a prendere di nascosto alla posta la coppia li nascondeva sotto i cuscini del canapè all'ingresso dell'ospite Joseph insomma regolava ogni cosa come voleva lui sempre garbato e cordiale tiranno gioviale e onnipotente era annunciato l'arrivo di altri amici persone pie e legittimiste i castellani si resero conto della difficoltà di quell'incontro e non sapendo come cavarsela annunciarono a Joseph Muradur che un affare di famiglia li obbligava ad assentarsi per qualche giorno e lo pregarono di rimanere solo lui non se ne turbò e rispose benissimo vi aspetterò tutto il tempo necessario nessun complimento tra amici ve l'ho detto fate bene a badare i vostri affari di famiglia per dinci in bacco io non mi offendo sicuramente per questo anzi mi sento più a mio agio con voi andate amici io vi aspetto qui il signore e la signora de Meril partirono il giorno dopo lui li sta ancora aspettando e il signore e la signora